Venerdì 2 aprile torna la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo con un evento a Firenze che vedrà presente anche la delegazione a Retina, ma è un evento promosso dal coordinamento toscano. Sì esattamente, sarà un grande evento, unico per noi come coordinamento al quale parteciperanno tutte le associazioni di famiglie dell'intera regione. Si terrà alle 15.30 al cinema della Compagnia di Firenze. Sarà un evento che avrà come slogan Imparo posso lavorare, quindi parleremo dell'inclusione lavorativa ma anche di diritti in generale. Ci saranno degli ospiti molto prestigiosi, degli amici diciamo che hanno sposato la causa, ci saranno tra gli altri giornalisti come Andrea Pamparana, Gian Antonio Stella, lo scrittore Jacopo Melio, il rettore del Cottolengo di Torino, don Andrea Bonsignori, nostro amico, l'artista Paolo Fresu e ancora lo psichiatra Beppe Dall'Acqua che ha iniziato il suo percorso in psichiatria a Trieste nel 1971 con Franco Basaglia. Ed è anche l'ideatore di Marco Cavallo. Marco Cavallo è una scultura di un cavallo blu, qualcuno di voi probabilmente l'ha visto da qualche parte, fatta di carta pesta che è diventata diciamo un po' il simbolo della battaglia per la chiusura dei manicomi. Ovviamente condurrà l'evento sempre impegnato Saverio Tommasi. Poi parallelamente ci siamo impegnati anche a livello provinciale perché ormai gli aretini sono abituati al nostro mese blu e stiamo ultimando diciamo il programma che andrà avanti fino a metà giugno quest'anno e spazieremo anche qui con diversi tipi di interventi, avremo interventi in ambito medico, ci saranno delle presentazioni di libri, poi avremo una giornata dedicata alla prevenzione, alla prevenzione vista come pianificazione e gestione degli interventi di primo soccorso con le persone autistiche e anche con altre disabilità. Questa è una giornata che ci piace molto riprendere perché abbiamo iniziato un percorso con il comando provinciale dei vigili del fuoco insieme alla protezione civile e alle ferrovie dello Stato e abbiamo iniziato un percorso facendo una simulazione, la simulazione di un incidente stradale, un incidente scusate ferroviario in cui c'è una persona autistica e quindi analizzeremo tutte le varie fasi di intervento dei vigili del fuoco e questo lo faremo anche alla presenza di un grande esperto dell'ingegnere Zanut che viene da Pordenone che è una persona che si è sempre dedicata a questo settore, anche lui è un vigile del fuoco e ha addirittura creato dei protocolli con il ministero dell'interno e poi ci saranno altre iniziative carine come una giornata dedicata allo yoga oppure varie giornate dedicate a delle camminate, abbiamo chiamate camminate in blu che sono state realizzate grazie a dei gruppi trekking che ci hanno dato una mano nel territorio ed è un modo per stare un pochino insieme, per stare all'aperto mantenendo sempre certamente tutte le restrizioni covid. Tornando all'evento in programma per venerdì 2 aprile, a partire dalle 15.30 dove sarà possibile seguirlo? Allora sarà possibile seguire, grazie insomma alla tecnologia che in questo anno ci ha molto aiutato, entreremo nelle case di tutti quelli che ci vorranno accogliere e potranno seguirci sia nella pagina del coordinamento associazioni autismo toscana ma anche nella pagina di Saverio Tommasi, nella pagina ufficiale nel suo profilo e anche in quella di Jacopo Melio io vorrei prendere il treno. Nasce lo slogan imparo posso lavorare perché fondamentalmente quando uno parla di disabilità e parla di autismo sembra sempre che si parla di bambini. In realtà l'autismo è una condizione di vita che accompagnerà sempre i nostri cari. Quindi abbiamo pensato al tema dell'inserimento lavorativo proprio perché queste giornate debbano essere per noi un'occasione per uscire dall'isolamento in cui ci ha costretto il covid, uscire dalla chiusura, dalla bolla in cui pensano che questi autistici vivano. Perché pensiamo che, e sappiamo perché i dati medici, clinici lo dicono, gli autistici imparano sempre, anche in età adulta. Quindi quando noi pensiamo ad un lavoro per i nostri figli pensiamo sì a un lavoro semplice certamente ma a un lavoro che gli possa restituire dignità, che gli possa svegliare la mattina con un'idea di andare non sempre e solo nel centro diurno ma anche di poter essere utile alla società, conoscere la società, non relegarsi in un altro contenitore. E quindi anche un lavoro protetto possibilmente. Come la pandemia ha inciso, ha impattato sulle vite dei ragazzi o delle persone che comunque soffrono di autismo? È stato un anno molto molto duro. Ognuno ha vissuto, siccome si parla di spettro dell'autismo, ognuno ha vissuto in base alla difficoltà che aveva il proprio figlio, il proprio fratello, il proprio nipote. C'è stato, devo dirlo, c'è stato un fuggifuggi generale dal parte delle istituzioni. I nostri ragazzi hanno perso quasi tutte le consuetudini, quasi tutti gli impegni che avevano a livello di terapie tranne i centri diurni che hanno aperto quasi subito dopo. Però per i più piccoli c'è stato veramente poco o niente. Quello che noi dobbiamo denunciare come associazione è questa mancanza di educatori che sarebbero state delle figure sicuramente non utili, indispensabili all'interno delle famiglie perché gli operatori avrebbero consentito alle famiglie di alleggerirsi un po' dalla quotidianità del Covid 24 ore su 24 dentro le mure domestiche con un ragazzo autistico che magari vuole uscire, che ha le sue esigenze. E poi anche proprio per mantenere la quotidianità dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno bisogno di avere, per non aumentare il loro stato ansiogeno, hanno bisogno di suddividere il loro tempo a seconda di quello che sapevano che facevano in quell'ora. Mancano anche il personale sanitario, purtroppo mancano psicologi. Anche gli psicologi sarebbero stati utili in questo momento perché avrebbero potuto supportare i genitori, supportare i fratelli. Quindi c'è stato veramente un vuoto. L'ultima domanda con il tempo che rimane a nostra disposizione relativa ad un'altra questione di stretta attualità, quella dei vaccini. In questo settore come sta procedendo? Non sta procedendo benissimo. Noi abbiamo pochissime famiglie che sono riuscite a vaccinarsi. Diciamo che il sistema che ha attivato la regione ha funzionato per certi versi e per altri no. Per esempio noi abbiamo riscontrato delle forti criticità per quello che riguarda le continue modifiche che venivano fatte all'interno della piattaforma. Modifiche, certo, fatte per migliorare il sistema. Però, per esempio, molte famiglie hanno iniziato il percorso di adesione o di prenotazione del vaccino ma alla fine di tutto il percorso non pare venga dato un riscontro. Per cui se tu devi fare una modifica e rientrare nella tua posizione non hai un numero di prenotazione. Quindi non puoi... Per esempio qualcuno si era dimenticato di mettere un caregiver oppure deve modificare un dato. Non c'è più la possibilità di rientrare. Quindi capiamo bene che le indicazioni del governo sono state dirottate giustamente sull'RSA, sul personale sanitario. Però abbiamo quasi l'idea che si siano voluti mettere a riparo i servizi e quindi non la categoria dei vulnerabili. Grazie. Grazie.